Il nuovo appuntamento con l'informazione di TG7 e Mobile News ben ritrovati. L'Italia dice basta alle opere incompiute. Con queste parole il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha visitato e inaugurato la vigilia di Natale le sei domus restaurate a Pompei insieme al Ministro della Cultura Dario Franceschini. Il Premier ha visitato sei domus appena restaurate nell'ambito del grande progetto Pompei, ora accessibili al pubblico. Se l'Italia smette di piangersi addosso nelle condizioni di tornare a essere quello che il mondo si aspetta che sia, un paese forte, leader faro, ha aggiunto il Premier. Il restauro degli ambienti è stato portato a termine dalla sovrintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia grazie ai fondi del grande progetto Pompei che ammontano in totale a 105 milioni di euro e che stanno restituendo splendore al grande sito archeologico, uno dei più visitati al mondo dopo anni di crolli e danneggiamenti dovuti alla mancanza di manutenzione. Con la nota di aggiornamento al DEF e la legge di stabilità per il 2016 è stata mantenuta la promessa di eliminare l'Imu e la Tasi sulla prima abitazione così come sono state introdotte importanti decontribuzioni e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili ed eco-incentivi portando avanti così nuove misure espansive finalizzate ad accelerare la crescita. Si tratta di un alleggerimento della pressione fiscale sulla casa annunciato già da quest'estate per consolidare la ripresa in attesa del Via Libera di Bruxelles tutte le clausole di flessibilità di bilancio previste dall'esecutivo per consentire il maggior disavanzo del nostro Paese. A sottolinearlo è Paolo Righi, presidente nazionale FIAIP in una nota nella quale spiega come si tratta di un primo passo in avanti per la politica economica del Governo che scommette per la prima volta in varie modalità sull'immobiliare per rilanciare la crescita e la ripresa economica. La legge di stabilità approvata al Senato non rappresenta però a detta di FIAIP una strategia complessiva per il rilancio del settore immobiliare e delle costruzioni ma segna un'importante inversione di rotta un cambiamento che per essere consolidato, sottolinea ancora Righi ha bisogno nel 2016 di una riforma radicale delle norme sulle locazioni e le permute immobiliari. È necessario rivedere la normativa vigente sulle locazioni sia in termini di tassazione che di durata dei contratti liberalizzare e incentivare il mercato delle locazioni significa non solo soddisfare un'esigenza sociale ma anche ripristinare le condizioni per il rilancio dell'investimento immobiliare da sempre. Bene, rifugio per gli italiani. Ho ricostruito l'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare organismo che riunisce oltre 100 parlamentari e le principali associazioni di categoria con l'obiettivo condiviso di promuovere e sensibilizzare l'azione legislativa per favorire la crescita del settore ha affermato il senatore Vincenzo Gibino presidente dell'osservatorio. Nel 2007 la tassazione sulla casa era a 9 miliardi e mezzo di euro mentre oggi è a 28 miliardi con un mercato decisamente depresso. L'abolizione della patrimoniale sulla prima casa è un importante passo in avanti ma ancora non basta. È necessario andare oltre rivedere compiutamente la fiscalità sugli immobili le politiche abitative. L'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare è uno strumento propositivo trasversale che va oltre le scelte ideologiche che per troppi anni hanno contraddistinto le politiche sulla casa ha dichiarato Paolo Righi, presidente di FIAIP auspichiamo, ha detto, un confronto che conduca a proposte condivise utili a ridare ossigeno al mercato. L'auspicio è che l'osservatorio possa contribuire a tenere alta l'attenzione sul settore immobiliare ha aggiunto Giorgio Spaziani Testa presidente di Confedilizia se è vero che la legge di stabilità rappresenta un cambio di rotta rispetto alle politiche fiscali ha detto sulla casa negli ultimi anni è altresì vero che le misure varate devono essere considerate come un punto di partenza per risollevare il comparto è infatti indispensabile e urgente adottare misure di detassazione degli immobili locati come negozi e uffici gravati da un'imposizione talmente elevata da costituire una delle principali cause della crisi del commercio. Nasce Nagora il blog dei costruttori edili di Napoli si tratta di un nuovo strumento di comunicazione pensato proprio dall'associazione dei costruttori edili di Napoli che metterà al centro i temi dell'architettura, dell'urbanistica e dello sviluppo dell'area metropolitana una piattaforma telematica che nasce per accogliere e valorizzare i punti di vista, analisi, polemiche e proposte su temi che sono parte essenziale della nostra quotidianità. Nagora invita tutti i lettori a esprimere la propria voce postando commenti, segnalando criticità illustrando idee pubblicando qui i loro progetti e le loro visioni di Napoli della sua area metropolitana di fronte a una crisi nazionale cittadina spiegato Francesco Tuccillo presidente Aschen che soltanto ora sembra mostrare qualche timido segnale di ripresa forse è venuto il momento per gli imprenditori napoletani di aprirsi con maggiore efficacia alla città e alle sue molte energie e risorse da una parte mettendo in comune pubblicando e dunque sottoponendo al giudizio dell'opinione pubblica le idee, le proposte e i progetti che l'ACEN ha dedicato alla città di Napoli dall'altra parte invitando i lettori del blog a intervenire sulle pagine di Nagora e cioè raccogliendo le molte voci della città dei suoi professionisti degli imprenditori dei giovani di chiunque voglia esprimere un'opinione segnalare i punti di crisi del tessuto urbano offrire soluzioni concrete o idee strategiche e dare insomma un contributo al dibattito sul futuro di Napoli e questa era l'ultima notizia l'informazione di TG7 e Mobile News termina qui io vi do appuntamento alla prossima edizione